Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono due chilometri di coda per incidente tra Monte Catini e Pistoia in direzione Firenze. In A1 personale su strada per lavori in direzione Firenze tra Fabro e Chiusi Chianciano e tra Monte San Sabino e Arezzo. Per le statali sull'Aurelia rallentamenti in entrambe le direzioni 6 chilometri e mezzo prima di San Vincenzo Sud. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Ulla e Pallerone. In FIPILI attenzione al personale sulla strada in entrata ad Empoli in direzione Livorno e in entrata a Vicarello in direzione Firenze. Si ricorda che oggi è in atto uno sciopero nazionale dei trasporti. Tutte le informazioni attraverso i nostri canali social e il canale Telegram di Muoversi in Toscana. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!